Chi è la seconda bella moglie di Berlusconi? Vediamo, il suo vero nome è Miriam Raffaella Bartolini, ma tutti la conosciamo come Veronica Lario. Seconda moglie di Berlusconi nonché bellissima first lady, si conoscono negli anni 80 e si sposeranno 10 anni dopo, nel 1990. Lei è un'attrice di teatro e del cinema e da Berlusconi ha avuto tre splendidi ragazzi, Barbara Eleonora e Luigi.